La mostra del Gran Turco aperta a Palmanova è il risultato dei lunghi anni di esperienze e di osservazioni svolte da quell'ispettorato dell'agricoltura ed ha per principale scopo quello di servire di guida agli agricoltori a fine di ottenere una più intensiva e rigogliosa produzione di Gran Turco. Figurano nella mostra due colture interdipendenti con esso e cioè il colza e il fagiolo che alternati nel terreno di piantagione del Gran Turco avvantaggiano la coltivazione di quest'ultimo.